già un po' viste, un po' sentite purtroppo. Però la novità di questa cosa che abbiamo fatto insieme è che forse per la prima volta, grazie a una storia che adesso i colleghi vi racconteranno, noi abbiamo avuto la possibilità di riprodurre quasi in scala 1 a 1 un caso non tanto di pedofilia, di violenza commessa da un sacerdote, ma soprattutto di vedere bene come funziona dopo il meccanismo di copertura che la Chiesa dà ai suoi sacerdoti che sbagliano. E come vi racconteranno, questa è una storia esemplare in cui da un parroco di Enna si risale al vescovo di Piazza Armerina, della cui diocesi Enna fa parte, e poi su su per l'Irami si scopre che anche Papa Francesco, mentre si occupa della guerra in Ucraina e della guerra di Gaza, Papa Francesco deve occuparsi anche del pedofilo di Enna. Perché è un problema serio per la Chiesa. Questo è il contenuto sostanziale del podcast che adesso Stefano Feltri, e Federica vi descriveranno. Sono con noi per raccontarvi meglio questa storia. Qui accanto a me Antonio Messina, che è la persona che si è battuta per avere giustizia per questo caso di violenza, facendo prima la denuncia per via ecclesiastica, poi alla giustizia ordinaria. Con lui la sua avvocata, Eleanna Parassiditi, che l'ha accompagnato in questa lunga vicenda processuale che si è conclusa giorni fa. E poi con noi c'è anche Piero Elisa Rizzo, che è una collega giornalista di Enna, corrispondente dell'Ansa da Enna, che ti potrà raccontare e rispondere alle vostre domande se vi incuriosisce sapere cosa significa seguire una vicenda così vivendo a Enna. Stefano. Grazie Giorgio. Questo, come diceva Giorgio, è un progetto a cui crediamo tanto e che, dico solo due parole sulla Genesi e sulla forma che abbiamo scelto. La Genesi, con Federica e con Giorgio, abbiamo iniziato a lavorare su queste storie quando io ero direttore di Domani e la nostra idea, che poi abbiamo sviluppato anche in questo podcast, era di dare una risposta a una domanda che è stata posta, per esempio, da un altro podcast uscito l'anno scorso, mi sembra, la bomba del post, che diceva come mai in Italia non scoppia uno scandalo sugli abusi nella Chiesa. e la risposta che noi ci eravamo dati all'epoca era perché nessuno unisce i puntini, perché ci sono tante cose che già sappiamo, in cui non è che dici chissà mai se in Italia c'è il problema, lo sappiamo che il problema c'è, lo vediamo, lo vediamo dalle sentenze, vediamo dalle storie. E allora con Federica, supervisionata da Giorgio, abbiamo iniziato a seguire queste storie e siamo arrivati a questa di Antonio Messina e di Don Giuseppe Rugolo e del Vescovo, soprattutto, Rosario Gisana e di altri Vescovi coinvolti, di Papa Francesco, con tutta una serie di dettagli che dopo loro vi spiegheranno. Perché questo e perché è un podcast? Perché in questa storia noi, credo a mia conoscenza per la prima volta al mondo, abbiamo non solo le parole della vittima, che coraggiosamente, perché non è una cosa per niente scontata, adesso oggi c'è stata la sentenza il 5 marzo, quindi gli è stata data ragione anche dal punto di vista giudiziario, ma vi racconterò che ci ha messo dieci anni a farsi dare ragione, dieci anni sono tanti nella vita di una persona che ne ha trenta più o meno, trentadue, insomma, c'è un terzo della sua vita su questo, quindi non è una cosa banale uscire allo scoperto, ma per la prima volta al mondo noi sentiamo il sistema di copertura degli abusi raccontato da loro, dai preti, dal Vescovo, cioè il film Spotlight che ha vinto l'Oscar qualche anno fa era un film su un'indagine giornalistica in cui loro dovevano ricostruire le cose senza sapere come funzionava davvero il sistema, lo ricostruivano perché univano i puntini anche loro e capivano che certi preti venivano spostati da una parrocchia all'altra e poi scoprivano che questi preti erano quelli che avevano commesso abusi. Noi qui siamo su tutto un altro livello di intelligibilità, perché noi sentiamo un Vescovo in carica che dice io ho insabbiato questa storia, quindi è anche un problema mio, un Vescovo che dice questa cosa, sentiamo lo stesso Vescovo che dice che lui ha fatto un favore al Papa e che quindi, come dire, può contare su un certo appoggio, sentiamo Don Rugolo che chiama gli altri preti all'indomani della sua incriminazione, dell'aver scoperto che ha indagato, e non sentiamo un solo prete che dice ma cosa hai fatto, ma parliamone, ma è un problema, ma non c'è mai un prete in questa storia che dica ma quel povero ragazzo che finì ha fatto, ma fermiamoci un attimo, forse è il caso che ti fermi, sentiamo un parroco di Ferrara, quindi non è che uno può dire a Enna è una cosa diversa, succedono solo lì queste cose, perché avete scelto una diocesi dove per una circostanza casuale proprio lì c'erano i problemi, sentiamo un prete a Ferrara che quando scopre dai giornali, forse dai giornali, che il suo braccio destro è accusato di violenza sessuale, la prima cosa che fa è dire ai parrocchiani non parlate con i giornalisti, nel caso vi dico io cosa dire, a Ferrara, un prete che non c'entra niente con gli altri, quindi vuol dire, e non si sono coordinati, vuol dire che noi per la prima volta stiamo vedendo da dentro uno schema che evidentemente se fosse in un'azienda si direbbe è la cultura aziendale, che è così, cioè quando Credit Suisse è crollato l'anno scorso, è perché ogni scandalo che c'era veniva mascherato e nascosto e si imbrogliava sui conti, alla fine la banca è fallita. La chiesa è come Credit Suisse, la chiesa italiana ha nascosto questi scandali così tanto che a un certo punto rischia di crollare. In questo podcast noi possiamo raccontarlo, possiamo raccontarlo perché abbiamo gli audio e questa è la grande differenza, adesso vi faremo sentire qualcosa tra un attimo, abbiamo gli audio perché, per due ragioni, uno perché ci sono intercettazioni telefoniche che sono finite agli atti del processo, quindi nella disponibilità delle parti, quindi le abbiamo usate, e l'altra è perché in questa vicenda alcune persone hanno pensato saggiamente, devo dire, di registrare. Hanno pensato alcuni, diciamo, dal lato dei genitori di Antonio quando hanno avuto un incontro col Vescovo, per esempio, ma la cosa più interessante è che lo stesso Don Rugolo, cioè il prete condannato, ha registrato una sua lunghissima conversazione con il Vescovo. Per farne cosa non lo sappiamo esattamente, ma possiamo immaginarlo, no? Si è registrato perché sapeva che in quella conversazione il Vescovo avrebbe detto delle cose che a lui sarebbero potute tornare utili. E questa è la prima volta che noi possiamo sentire tutto questo. e questo ha generato, qui chiudo, un podcast che è in sette puntate, cito anche perché è qui collegato, ci siamo avvalsi della consulenza musicale e sonora di Stefano Tumiati, che è uno dei più bravi su questo, che ha lavorato a grandi podcast d'inchiesta del Post e altri, e quindi ci abbiamo messo sette puntate perché è una vicenda complicata in cui noi riusciamo a ricostruire tutte le tappe e soprattutto, come diceva Giorgio, tutti i figli che collegano Enna e la diocesi di Piazza Armerina fino al Vaticano. Perché questo Vescovo va in Vaticano quando esce la notizia, va in udienza dal Papa quando esce la notizia di Don Rugolo indagato e il Papa interviene pubblicamente a sua difesa credo il giorno prima della requisitoria del PM. Quindi, diciamo, quando certe cose succedevano quando c'era Berlusconi in politica e qualcuno e si muovevano le cose a ridosso dei suoi processi, tutti noi dicevamo facciamo due più due. Ora, il Papa in questa vicenda non è coinvolto solo in quanto, come dire, capo della Chiesa Universale e quindi della Chiesa Italiana. È coinvolto in quanto, come dire, soggetto, individuo, persona che, avendo un'agenda molto complicata, trova il tempo per occuparsi di questa storia, ma non per rispondere alla lettera che gli ha scritto Antonio. Trova il tempo per occuparsene per difendere il Vescovo al quale Antonio per anni ha cercato di ottenere una reazione drastica dentro la Chiesa. Perché la cosa interessante di questo podcast e chiudo veramente è che non è una storia di persone che, diciamo, di quelli che si sbattezzano, che contestano la Chiesa, che sono ostili per il principio. È una storia di credenti che vogliono che la Chiesa faccia quello che loro si aspettano che faccia, che ripongono fiducia nella Chiesa e che sperano che possa cambiare. Non è una storia, diciamo, di, come dire, ostilità. È una storia di gente come Antonio che è rimasta delusa da una Chiesa a cui si è affidato ed è stata tradita dal Papa stesso in giù. E questo, che secondo me, la rende una storia, per quello abbiamo voluto farla, non questa conferenza stampa con voi, con la stampa internazionale, con chi ha una visione di insieme della cosa. Non è una storia italiana, non è una storia ennese, anche se sarà interessante sentire Pierilisa e vi racconterà cosa vuol dire raccontarla da lì. È una storia veramente generale e che per la prima volta ci dà uno spaccato che finora non avevo mai visto. Bene. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Grazie. Io cercherò di ripercorrere brevemente la storia per farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, stiamo parlando di un, non è neanche un prete, è ancora un seminarista, 26 anni, frequenta l'azione cattolica, Giuseppe Rugolo e si occupa della pastorale giovanile. In questo contesto conosce Antonio Messina. Antonio ha 14 anni quando conosce Rugolo ed è in quel momento in cui si hanno dubbi, in particolare Antonio ha il dubbio se entrare in seminario, però si sta facendo anche delle domande sulla sua identità sessuale e quindi si rivolge a quello che si propone come una persona vicina ai ragazzi, come uno che all'occorrenza è anche uno psicologo, quindi lo avvicina, parlano a lungo, lo rassicura dicendo che lo fa con molti altri, è uno che si pone allo stesso livello dei ragazzi, quindi vedete che comincia una lenta manipolazione psicologica, una manipolazione che le vittime di abuso conoscono bene perché l'abuso non arriva subito l'abuso sessuale, c'è prima tutta una lunga preparazione, ricordiamo Antonio è un ragazzino, i primi abusi avvengono due anni dopo quando lui ha 16 anni e frequenta il Gresso è il gruppo estivo, è ancora un seminarista Rugolo, in questo caso lui comincia esce e fa i primi approcci con Antonio e da qui comincia un lungo periodo, quattro anni di abusi che si consumano in casa, in chiesa, dietro l'altare prima della messa, insomma noi stiamo parlando di un soggetto che nel frattempo poi diventa anche sacerdote nel 2014, 2013, diventa sacerdote ma è uno che non ha alcuna remora nell'approcciare Antonio e poi vedremo che questa cosa la fa anche con altri ragazzi. Questo Antonio cerca, poi ce lo dirà lui, cerca di sottrarsi alla presa del prete ma non riesce ad allontanarsi con anche qua uno schema che è consolidato con le vittime di abuso cioè tutte le volte che Antonio cerca di sottrarsi alla sua presa alla sua influenza il prete lo tratta male, lo scredita di fronte a tutti se invece cede allora il prete è gentile insomma c'è tutta questa manipolazione psicologica che si lega all'abuso fisico vero e proprio. Alla fine Antonio riesce ormai maggiorenne a staccarsi dopo un anno lo dice al padre quindi comincia questo lungo processo di denuncia della famiglia prima ai genitori di Antonio poi Antonio stesso che si rivolgono come diceva Stefano prima da fedeli si rivolgono alla chiesa quindi innanzitutto al parroco che è stato il parroco di Antonio quindi il prete di riferimento questo prete invece di aiutare Antonio chiama contatta il prete e in sostanza si schiera dalla parte del prete si perde altro tempo i genitori vanno dal vescovo e qui entra importante la figura del vescovo Gisana denunciano al vescovo il vescovo fa passare due anni prima di parlare con Antonio quindi ci sono delle lungaggini tra l'altro ricordiamo che il vescovo sapeva già dell'abuso perché era stato avvertito dall'unico prete della diocesi di Piazza Armerina che in qualche modo ha sostenuto Antonio e quindi c'è un prete che già nel 2016 avverte il vescovo il vescovo non fa nulla passa un altro anno arrivano come dicevo i genitori dopo un altro anno ancora parla con Antonio a quel punto è costretto ma intanto sono passati quattro anni da quando hanno cominciato a denunciare gli abusi alla chiesa a quando il vescovo fa qualcosa quattro anni in cui il prete sta continuando ovviamente ad essere in contatto con i ragazzi perché Antonio decide di andare dal vescovo perché il vescovo pur consapevole di tutto quanto lo nomina parroco di una chiesa importante a Enna San Cataldo a quel punto Antonio si decide e va a parlare con il vescovo inizia l'indagine ecclesiastica indagine ecclesiastica che non porta nulla di fatto perché viene stabilito che gli abusi sono avvenuti quando Rugolo era ancora seminarista e quindi non è di pertinenza della chiesa insomma del diritto canonico quindi questa storia non viene riportata all'allora congregazione per la dottrina della fede quindi tutto si ferma di nuovo però intanto Antonio decide fino dopo aver chiesto al Papa perché ricordiamo Antonio si rivolge anche al Papa quindi decide di denunciare anche allo Stato quindi va alla polizia nel frattempo Rugolo è stato mandato a Ferrara come abbiamo visto perché qui si riproduce anche uno schema che è lo schema tipico del sistema ecclesiastico quando interviene una denuncia di abuso il vescovo tendenzialmente prende e sposta l'accusato il prete in un'altra diocese questo è quello che Gisana fa con Rugolo arriva l'inchiesta effettivamente la notizia l'inchiesta della polizia e quindi qui insomma viene tutto fuori questo è il momento in cui viene tutto l'ho scoperto ed è interessante vedere qui lo sentirete in questo podcast la reazione anche di tutti i preti che sapevano e come dicevamo non sostengono mai Antonio interessante da sottolineare e noi l'abbiamo che il vescovo ha un rapporto con Rugolo molto particolare in sostanza si pone in un modo protettivo noi lo vediamo sempre che forse lo possiamo far sentire l'audio del vescovo con Rugolo se i nostri il nostro valente Carmelo Rosa con Giorgio Meletti si è andato là e basta ciao tutti tutte tutti i presupposti esatti per diventare santo gente che lo osteggia non gente i fratelli i fratelli lo osteggiano lo calumniano hanno i prossimi hanno quelle che ti che ti odiano che ti sono nemici eccetera eccetera in più stai portando un peso da un qualche cosa a una stupidà che è successo perché tu eri un ragazzotto allora qua sentiamo in un audio che dal nome poi al nostro podcast che non è la confessione in cui il vescovo Gisana incontra Don Rugolo quando Don Rugolo è già diciamo in esilio a Ferrara ma ancora non c'è l'inchiesta della polizia e questo è interessante perché Rugolo registra sul suo telefono questo incontro con il vescovo quindi cosa sentiamo sentiamo il vescovo che giustifica Rugolo dicendo vabbè tu hai fatto una ragazzata una stupidata una cosa da poco e il vescovo ovviamente non sa di essere registrato e poi da questa conversazione verranno fuori molti altri dettagli compreso il fatto che il vescovo copre le spese di Rugolo se abbiamo oltre 50.000 euro poco con i soldi dell'otto per mille adesso è un'altra delle cose che vengono fuori quindi perché Rugolo in tutto questo lungo colloquio con il vescovo mira a rientrare a innalzimenti dei suoi confratelli e minaccia in qualche modo anche il vescovo dicendo io so delle cose di te questo è interessante torniamo un attimo sul perché questa storia non è una storia semplicemente di un prete di una città siciliana ma si collega anche a Roma ad un certo punto in un'intercettazione agli atti noi sentiamo il vescovo Gisana che parla con i genitori di Antonio e dice io ho fatto un favore a Papa Francesco e quindi mentre spiega cos'è l'indagine crisiastica l'investigazione previa che sarà fatta su rugolci io ho fatto un favore se si vanta in qualche modo i genitori allora noi ci siamo incuriositi abbiamo pensato ma chi favore è questo di cui si vanta Gisana e abbiamo ricostruito che nel 2017 cioè più o meno nel periodo un po' prima insomma quando avviene l'incontro con i genitori di Antonio Gisana aveva fatto diciamo da Presidente una commissione speciale su un frate Cappuccino Giovanni Salonia era stato accusato da due suore di abuso più di due in realtà però poi verranno due sono quelle che poi andranno anche davanti ai magistrati questa storia noi la sappiamo perché queste queste persone hanno fatto una denuncia in sede civile cioè nella sede davanti ai magistrati quindi c'è un problema Salonia è stato appena nominato dal Papa Vescovo Vicario di Palermo a febbraio del 2016 2017 subito dopo arrivano le lettere di denuncia e quindi il Papa è costretto a fare marcia indietro e incarica il nostro Vescovo Gisana ovviamente si va per dire ma il Vescovo Gisana di fare un'indagine ovviamente da questa indagine ovviamente tra virgolette viene fuori che sono tutte fantasie delle suore però intanto questo è il favore che Gisana ha fatto al Papa perché il Papa si trovava in una posizione imbarazzante a questo punto di aver nominato uno a Vescovo allora poi Salonia rinuncia e tutto prosegue ma nel 2018 il Papa viene a Piazza Armerina il 15 di settembre poco prima tra l'altro di nominare Rugolo parruco il Papa viene abbraccia Salonia saluta insomma a favore di Camera sia Gisana che il Vescovo di Palermo di Palermo l'orefice insomma per fare un po' vedere che tutto tutto è a posto quindi noi questa cosa in qualche modo si collega anche a quell'incredibile dichiarazione che il Papa fa il 6 novembre 2023 il giorno prima dell'udienza cruciale in cui ci sono le requisitorie del Pubblico Ministero delle Parti Civili il Papa davanti a una delegazione della Casa della Misericordia di Gela dice Gisana presente a Roma dice bravo questo Vescovo molto bravo è un Vescovo giusto tanti l'hanno calunniato ma lui sempre giusto sempre retto questo è molto interessante perché poi chiederemo ad Antonio come l'ha vissuta questa dichiarazione pubblica il giorno prima dell'udienza quella cruciale che poi viene però rimandata infatti non sarà quella la data ma un'altra ecco io per il momento io direi mi fermo qua però vorrei chiedere ad Antonio no no anzi dobbiamo giustamente finire con la storia con la sua conclusione per il momento cioè che c'è stata una sentenza il 5 marzo come gli ha detto Stefano il prete è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale continuata e tentata violenza sessuale la tentata violenza si riferisce a un episodio in cui è stato purtroppo per lui protagonista Antonio invece prescritti i fatti avvenuti prima del 2011 cioè quando di fatto Antonio era minorenne Antonio io ti darei la parola e vorrei chiederti però in particolare come ti sei sentito cioè è passata certamente c'è una sentenza che ora mette un punto ma da questo processo è emerso pesantemente la responsabilità di Monsignor Gisana cioè è emerso le nostre intercettazioni sono state prodotte quelle che sentirete nel podcast sono state prodotte in aula quindi il Vescovo non solo ha mentito non solo ha protetto il prete ma in più ha detto che ci sono molti altri casi nella sua diocesi di cui lui non ha mai fatto parola ecco che cosa qual è stato il tuo rapporto con la chiesa al di là di rugolo allora intanto buonasera a tutti e scusatemi magari un po' per l'emozione perché parlare di questi fatti non è mai facile ma ritengo che adesso sia anche un dovere farlo è un dovere perché ancora tanti sono i casi che vengono tacciuti anche all'interno della diocesi di Piazza Ermerina e quindi se questo può aprire le porte chiaramente alla scoperta di ulteriori vicende che vengono sistematicamente coperte proprio all'interno della diocesi di mia appartenenza ma chiaramente come sapete non solo in Sicilia ma anche altrove allora anche che ben venga il mio rapporto con con la diocesi con il Vescovo insomma io mi ero assolutamente fidato e affidato al Vescovo Gisana sia perché come diceva Stefano Feltri all'inizio io sono comunque un credente continuo a frequentare una comunità parrocchiale che è quella guidata dal parroco che è l'unico che mi ha aiutato e mi ha creduto e che poi mi ha portato a incontrare il Vescovo prima i miei genitori e poi il Vescovo nel 2018 un incontro che avviene solo perché è stimolato da me tra l'altro perché appunto col senno di poi ho compreso benissimo che il Vescovo ha tentato in tutti i modi di prendere tempo di perdere tempo e quindi poi nel corso di una celebrazione chiesi lui di poterci vedere è una cosa che fa un po' sorridere perché al primo incontro addirittura lui nonostante sapesse la parrocchia d'appartenenza pensava che volessi entrare in seminario e fece finta poi di essere sorpreso del fatto che in realtà mi trovavo da lui per denunciare per l'ennesima volta perché lui già ne era a conoscenza gli abusi che avevo subito da parte di Don Giuseppe Rugolo Vescovo che di fatto non era sorpreso perché conosceva già i fatti di un altro ragazzo che poi è stato sentito anche in aula che lui sempre nella registrazione che tra l'altro Rugolo fa ne era a conoscenza e si vantava proprio con l'imputato questo lo abbiamo appreso poi dagli atti si vantava con l'imputato di averlo convinto a non denunciare quindi era molto contento del fatto che io ero rimasto da solo nella denuncia che avevo fatto all'autorità ecclesiastica motivo per il quale il sacerdote poteva benissimo essere salvato e come abbiamo sentito essere anche elevato agli onori degli altari mi dispiace ma questa è una cosa che onestamente mi ferisce ogni volta che la sento perché credo che sia anche un'offesa verso quanti credono non rendendosi evidentemente conto che non si tratta di peccati forse loro questa differenza non la conoscono ma si tratta di reati reati ai quali immagino si è andato incontro lo stesso vescovo perché io mi sono sentito totalmente tradito chiaramente dal vescovo Gisana e quindi dalla mia diogesi e dico io è una cosa che ho sempre sentito è quello che penso dopo gli abusi e le violenze che ho subito da parte di Don Giuseppe Rugolo c'è stato un altro abuso che è proprio quello che ho ricevuto dal vescovo dalla diocesi per non essere creduto immaginatevi che in una conversazione perché io ho avuto con lui diversi incontri prima chiaramente di sia prima che dopo il deposito della denuncia all'autorità ecclesiastica che depositai tra l'altro proprio il 24 dicembre del 2018 lui in una conversazione così quando poi cambiò di fatto rotta perché all'inizio ero convinto che potessi ottenere una giustizia all'interno appunto della chiesa lui in realtà si lasciò andare anche in alcune considerazioni circa il fatto che tuttavia si trattava di pochissimi casi come se in questo caso in l'intervento verso un sacerdote che era solito abusare di minori si misurasse sulla quantità degli abusi evidentemente perpetrati lì compresi che non c'era più alcuna strada da percorrere sino a quando addirittura arrivammo a dover discutere solo ed esclusivamente di faccende di natura economica perché io da parte della diocesi tra l'altro non ho mai ricevuto un documento una carta relativa all'investigazio previa che era stata nel frattempo aperta nel 2019 alcuni testimoni non si presentarono e per loro andava evidentemente bene così in sede appunto di quando io fui sentito anche al tribunale ecclesiastico addirittura non furono assolutamente riportati gli episodi di abuso che io raccontavo perché mi veniva detto dai giudici che erano anche irrilevanti insomma tutto questo in realtà poi si concluse addirittura con l'offerta di 25 mila euro che dapprima con diverse soluzioni e poi addirittura con una proposta di ottenerli in contanti erano utili con una clausola di riservatezza a comprarmi a tutti gli effetti a permettere al sacerdote di rientrare nella sua comunità parrocchiale e quindi con questo stratagemma mettermi per sempre a tacere cosa che io chiaramente non ho mai accettato mai condiviso neanche nelle interlocuzioni con quello che era allora il mio avvocato in sede canonica e da lì in poi decisi di andare all'autorità a denunciare tutta l'autorità giudiziaria perché era l'unica strada che potevo percorrere dopo la mia ennesima ingenuità perché scrissi una lettera a Papa Francesco attesi per più di un mese una risposta che non arrivava mai e lì compresi che tuttavia dalla Chiesa non potevo ricevere alcuna alcuna giustizia anzi nelle intercettazioni abbiamo il Vescovo che parla di impeto demoniaco riferendosi a te e alla tua famiglia non al problema alla questione dell'amuzio noi questa ce l'abbiamo e forse riusciamo a farla sentire ma che devo fare io non posso più è usaggio che è mio però in questo momento non so neanche io che cosa si deve fare l'unica cosa è pregare il Signore che freddi questo impeto demoniaco e speriamo che il Signore ci aiuti e basta perché ora il problema non è solo tuo il problema è anche mio perché io ho insabbiato questa storia ecco qua lo dice chiaramente Gisana è il Gisana che parla e che definisce la vittima un impeto demoniaco e poi dice ho insabbiato questa storia una conversazione intercettata con Rugolo subito dopo che la notizia è emersa perché Pierelisa Rizzo ne aveva dato conto all'ANSA io chiederei Pierelisa Rizzo se vuoi ma poi tanto sì esatto chiederei Pierelisa che questo non è stato un processo tranquillo come è stato raccontare perché tu hai avuto più di una denuncia di cui devi ancora presentarti in aula ho avuto tre denunce e come è stato raccontare questo processo come è stato raccontare questo processo da sola perché nella mia città ma anche un po' nella regione nessuno si è occupato di un caso di cronaca che comunque è un caso che ormai ha una caratura credo internazionale diciamo che uno dei problemi di questo processo è stata la stampa dunque io perché sono stata su una panchetta davanti all'aula romano del Tribune Alienna qualcosa come 220 ore perché 22 udienze in una media di 10 ore a udienza quindi sono stata seduta fuori sola perché è partito con un processo a porte chiuse e non siamo più riusciti a far aprire quelle porte non aprite quelle porte insomma allora all'inizio c'è stato un accordo della vittima poi Antonio con il suo avvocato hanno chiesto e anche l'avvocato di rete d'abuso hanno chiesto che una volta insomma che era finita la fase calda queste porte potevano essere aperte non sono mai state aperte e quindi sono diventata facile bersaglio nel senso che essendo sola ero io rea sono io rea di aver fatto uscire da quell'aula quello che nell'immaginario degli avvocati responsabili civili quindi della curia e della parrocchia di San Giovanni Battista non doveva uscire da quella stanza e dico questa inchiesta sentivo Antonio che diceva ho scritto al Papa io dico sempre abbiamo perché abbiamo scritto nella cucina di casa mia perché purtroppo Antonio si è rivolto a purtroppo non dico purtroppo nel senso che da tre anni la vita è diventata veramente molto complicata si è rivolto a me perché proprio non aveva trovato giustizia e quindi io ho dovuto sostenere Antonio mi sono dovuta mettere accanto ad Antonio non perché come diceva Federica io sono una cattolica seppure non sono una che frequenta la chiesa però ho dovuto proteggere cioè ho dovuto raccontare perché noi siamo stati bersaglio io Antonio e l'avvocato siamo stati bersaglio un po' di tutti io vi dico solo voglio dirlo un esempio noi siamo stati controllati in chiesa io Antonio e le Anna con il suo figlio durante la Madonna durante la festa della patrona nostra che è la Madonna Maria Santissima il 2 luglio dalla polizia perché temevano un atto dimostrativo quindi siamo stati costretti a spiegare perché eravamo dentro una chiesa e vabbè poi ecco esce dalle carte io vengo apostrofato dal colonnello dei carabinieri come una donna senza scrupoli di alcun genere quindi cosa significa una donna poco seria quindi una professionista poco seria nelle intercettazioni il colonnello dei carabinieri si permette di dire questa cosa è stato spostato le hanno dato insomma sta facendo un processo ma per un un capo di imputazione un po' fantasioso e quindi tutto questo ha portato a dover come dire serrare le fila per poter continuare a raccontare una storia di cronaca molto importante che ha rivelato un sistema a Gisana perché purtroppo la nostra storia non finisce ad Enna si ramifica nella diocesi e non solo viene fuori da tutti gli atti che purtroppo Gisana ha coperto tanti altri preti ha coperto tanti altri casi di abuso qualcuno è venuto fuori qualche giorno fa un catechista di Gela è stato rinviato a giudizio a Gela fa parte anche della nostra diocesi un altro parroco che è stato condannato per violenza sessuale e così via dicendo quindi la stampa questa volta che è stato il problema cogente di questo processo ogni udienza gli avvocati non facevano altro che dire c'è l'arrizzo in corridoio che scrive come se io stessi facendo un reato io facevo il mio lavoro lo facevo dentro io non sono mai entrata in aula e non mi sono mai fatta rimproverare dico ha dovuto raccontare perché io sono certa che se non avessimo raccontato questa storia avrebbe avuto un altro esito quindi la stampa tutela anche insomma di chi ha denunciato e di chi ha avuto il coraggio di metterci la faccia sicuramente avvocata di Anna Parasiliti che è l'avvocata di Antonio ecco c'è stata una sentenza eravate sicuri di arrivare a questo risultato e poi come è stata la reazione della diocesi come è stata l'interpretazione di questa sentenza della diocesi qual è stata la sua esperienza in questo senso intanto buonasera a tutti io non posso che ringraziarvi per l'attenzione che avete dato alla nostra storia e devo dire che questa attenzione è stata per noi una forma di protezione oggi lo posso dire in maniera molto chiara perché in questi anni noi abbiamo veramente temuto per noi e per le nostre famiglie perché il clima di ostilità che noi abbiamo registrato è qualcosa che non ha secondo me precedenti io per quanto mi riguarda questo non è stato un processo normale perché non è normale attaccare l'avvocato che svolge una professione e che in aula è come dire svolge un ruolo che attiene alla tutela della giurisdizione l'avvocato in Italia è previsto in Costituzione è il fatto che solo perché si è assunta la difesa di una vittima che ha osato denunciare un sistema a quel punto noi siamo diventati bersaglio e lo dico veramente in maniera oggi con la serenità di chi ha portato a caso un risultato ma durante questi anni con il timore di di essere anche io sono stata anche denunciata ho avuto un processo penale insieme ad un collega che anche lui mi è stato accanto solo perché abbiamo ancora una volta attaccato il sistema Gisana per quanto riguarda la sentenza oggi io parlo con sollievo di questa storia perché credo che il tentativo che ha fatto la diocesi di Piazza Armerina attraverso il suo avvocato di minimizzare il contenuto di questa sentenza non sia andata a buon fine non abbia colto nel segno questa è una sentenza importante perché scrive finalmente la parola condanna avverso un sistema abusante che ha come dire posto in essere questo sacerdote a cui sono stati affidati i ragazzi di una città perché quello che noi abbiamo registrato è stato proprio la difficoltà a un certo punto di questi giovani di comprendere il disvalore delle azioni che venivano poste nei loro confronti e allora io dico il fatto che oggi sia scritto condanna Giuseppe Rugolo per violenza sessuale e tentata violenza sessuale per noi è la vittoria più grande perché abbiamo sentito finalmente affermato quello che noi da anni diciamo cioè non si possono trattare i bambini e i ragazzi così come ha fatto Giuseppe Rugolo perché quelli sono atti che integrano violenza sessuale il tentativo di minimizzare è stato e di banalizzare è presente durante tutto il corso del processo noi abbiamo sentito più volte ripetere la parola goliardia come se palpeggiare le parti intime dei ragazzini fosse un gesto goliardico non è così questo è molto altro noi la cosa assolutamente sì sì perché come dire emerge chiaramente nell'ambito di tutto il processo che questo sacerdote avesse questa tendenza di palpeggiare i bambini e i ragazzini nelle parti intime ma non solo sopra i vestiti ma anche all'interno della biancheria intima e questo è stato ritenuto un gesto banale un gesto goliardico sdoganato è stato detto dai difensori dei responsabili civili proprio perché qualche anno fa Roberto Benigni lo aveva praticato nei confronti di Pippo Baudo durante una serata del festival di Sanremo quindi questo avrebbe legittimato questo tipo di comportamenti io oggi sono contenta soprattutto perché ho visto scritto nella sentenza l'interdizione imperpetuo dalla possibilità di quest'uomo di frequentare i luoghi frequentati dai minori cioè l'interdizione dalla possibilità di fare l'insegnante perché lui è stato anche insegnante e noi abbiamo dovuto registrare nel corso del processo il fatto che alcuni suoi alunni intrattenessero rapporti sessuali con il professore quindi questa per noi è la vittoria più grande il fatto che ci sia scritto oggi condanna e che ci sia l'interdizione imperpetuo dalla possibilità che il rugolo quantomeno nello stato italiano per quello che ci riguarda non potrà qualora questa sentenza venisse confermata nei successivi gradi di giudizio non potrà più avere a che fare con i minori io in una recente replica che ho fatto alla nota dell'avvocato della diocesi ho detto ora la Chiesa faccia la sua parte noi abbiamo e ho anche anticipato il fatto che chiederemo all'autorità giudiziaria di analizzare il contenuto dell'hard disk che è stato poi come dire il compendio del materiale rinvenuto sui supporti informatici di Don Giuseppe Rugolo che contiene delle immagini che come dire a primo avviso potrebbero proprio integrare l'ipotesi della detenzione di materiale pedopornografico allora noi chiederemo anche un approfondimento investigativo su questo punto perché appunto riteniamo che ormai questa storia debba andare fino in fondo questo noi l'abbiamo detto sempre con Antonio e con Piero Elisa a un certo punto abbiamo capito che questo processo era un'altra cosa cioè questo processo doveva diventare uno strumento perché venisse affermato la modalità di funzionamento di un sistema nell'ambito dell'attività che noi abbiamo fatto con Antonio perché Antonio è stato in questi anni un compagno preziosissimo ha una conoscenza del processo che forse è superiore a quella mia e abbiamo rinvenuto anche con altri colleghi con cui ci stiamo occupando di vicende che si intrecciano con quella di Antonio la presenza di altri casi coperti proprio coperti il catechista di cui parlava Piero Elisa Rizzo è stato segnalato da me e da un collega di Gela all'autorità giudiziaria perché nel corso di indagini difensive ci ha raccontato una storia che poi è un po' una fotocopia di quello che è successo ad Antonio anche quella coperta dal vescovo Cisana grazie per funzionare eccolo qua grazie all'avvocato Parasiliti aggiungo solo che l'idea che questo sia un sistema che non sia una vicenda individuale lo dice anche la sentenza che ha condannato la diocesi insolido a essere come responsabile credo per la parte civile per i danni e quindi è scritto in una sentenza che non è solo un prete che si è mosso non è la mela marcia ma era il cestino di mela marcia il problema solo due cose il podcast uscirà un episodio teaser che è una conversazione fra me e Federica che anticipa i temi che serve a inquadrare la vicenda che uscirà spero tra oggi e domani dobbiamo risolvere una questione con Spotify siamo quasi a posto e salvo sorprese mercoledì uscirà il primo episodio e poi ogni mercoledì una puntata per sette episodi è un podcast impegnativo lungo perché la vicenda avete capito è complessa e i documenti audio che ci sono sono unici quindi valeva la pena sentirli adesso siamo a vostra disposizione soprattutto i protagonisti sono a vostra disposizione per qualunque domanda e poi aggiungo che a posteriori visto che si fermano insomma il tempo è clemente se qualcuno di voi vuole poi intervistarli meglio separatamente eccetera sfruttiamo l'occasione già che siamo qui insomma allora prenderei le prime domande se vi presentate anche diciamo al viso perché lo conosco e poi dopo a dire sì alle persone collegate dico visto che è un po' complicato farvi intervenire se scrivete se avete delle domande le potete scrivere nella chat e le raccogliamo perché sennò è un casino allora sì grazie sono Albisa Armellini di Reuters sono molto ansioso di di ascoltare questo podcast volevo chiedervi due cose uno se avete tentato di chiedere commenti o in qualche modo coinvolgere la CEI il Cardinale Zuppi sapere se ha seguito il caso se intende prendere provvedimenti e l'altra cosa è dove dove è Rugolo adesso cosa fa allora abbiamo chiaramente chiesto diritto di replica a tutti i nostri protagonisti cioè tutti i preti che sentirete nel podcast e ovviamente in primis al vescovo a Rugolo tramite il suo avvocato e personalmente ma nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla CEI e in particolare sul Cardinale Zuppi gli ho chiesto personalmente se qualche commento se lui avesse dei commenti o se fosse a conoscenza della questione di Gisana e lui mi ha detto che non ha mai seguito il caso che non ne sapeva niente no dicevo salvo aver anche detto contestualmente che non era vero questo perché quando io ho intervistato Zuppi su un palco a Modena un anno fa alla festa di domani che è stata l'ultima cosa che ho fatto quando lavoravo lì lui ha detto che sapeva che noi abbiamo scritto cose false sul caso Rugolo che ci aveva fatto mandare la replica mi ha chiesto di presentargli Federica Turn sapeva perfettamente di cosa stavamo parlando e peraltro in quell'occasione ha anche detto una cosa che col seno del poi che credo che sia citata anche nel podcast se non sbaglio ha detto che anche lui era capitato di aver ricevuto delle denunce di abusi e di non averle riportate in procura e quindi diciamo e l'ha detto pubblicamente non è uno scoop insomma ma che inserita in questo contesto fa capire perché e aggiungo un altro dettaglio quando Federica è andata a raccontare noi già seguivamo il caso Rugolo è andata a raccontare il primo report della CEI sugli abusi non tutte le diocesi avevano fornito i dati indovinate quale mancava a diocesi di Piazza Armerina dove c'era dove sappiamo c'era un sistema di copertura degli abusi non era parte del report della CEI sugli abusi in Italia quindi il cardinale Zuppi sa perfettamente di cosa parliamo quando abbiamo fatto la domanda precisa lui ci ha risposto ma anche nel podcast lo dicono altri esperti che abbiamo sentito che tecnicamente per quanto incredibile se c'è un prete abusatore il problema è del vescovo ma non è un problema della CEI se il vescovo copre l'abuso perché i vescovi rispondono al Papa di fatto sulle questioni di abusi e non alla CEI e questo crea un vuoto diciamo un vulnus in cui l'unico soggetto a cui risponde Gisana lo copre cioè il Papa Sì noi abbiamo avuto notizia che è stata richiesta la revoca della misura cautelare ancora in corso perché evidentemente c'è questa volontà di tornare ad Enna questo dico fra l'altro in un periodo molto delicato per la nostra città perché si avvia la settimana santa della 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 città di Enna dove insomma il ruolo delle confraternite è molto molto forte molto importante e noi aspettiamo con con preoccupazione la decisione del del tribunale di Enna che dovrà decidere appunto sulla richiesta di revoca della della misura sì quindi durante gli arresti domiciliari lui gli arresti domiciliari li ha fatti dentro il seminario di Ferrara al quale era stato affidato prima dell'inchiesta si è occupato di minori dai 14 ai 19 anni nonostante il vescovo di Ferrara Perego sapeva benissimo perché era stato mandato lì sì posso scusate siamo stati in grado di documentare comportamenti analoghi a quelli che insomma hanno formato oggetto del nostro processo anche durante il trasferimento del di rugolo a Ferrara sono stati proprio oggetto di una produzione documentale in quanto fanno parte sempre di quel materiale acquisito nel corso delle indagini io su questo vorrei dire una cosa noi abbiamo avuto la fortuna in questa storia di trovare degli ottimi inquirenti perché abbiamo trovato un'indagine fatta in maniera veramente minuziosa scrupolosa e che ci ha consentito di affrontare questo processo con grande serenità quindi devo dire insomma che probabilmente siamo stati fortunati perché abbiamo trovato una fase favorevole della presenza di persone insomma coraggiose e di buona volontà in questa fase scusate ho solo un dettaglio che forse nel dispositivo della sentenza c'è questa non so se si chiama appena accessoria comunque la sentenza dichiara rugolo interdetto in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori non volevo chiedere all'avvocato Parasiliti se questa misura è esecutiva è già esecutiva dopo il primo grado o comunque è sospesa fino al passaggio ingiudicato sì anche la pena accessoria è sospesa fino al passaggio ingiudicato della sentenza però voglio sottolineare questo ovviamente dico l'interdizione opererà esclusivamente per quanto attiene insomma gli incarichi conferiti da autorità dello Stato italiano italiano ma ovviamente se non c'è un provvedimento interdittivo da parte dell'autorità ecclesiastica Rugolo potrebbe continuare a fare il prete potrebbe continuare a fare il catechismo potrebbe avere comunque contatto con minori nell'ambito di istituzioni che non sono regolate dalla legge dello Stato italiano le strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori non comprende la Chiesa perché non è una struttura privata la Chiesa misura in cui Don Rugolo dovesse continuare a fare il sacerdote è chiaro che potrebbe esercitare tutte le facoltà e prerogative che sono connesse a questo incarico e purtroppo il percorso che si segue in ambito ecclesiastico è sicuramente diverso è parallelo rispetto a quello ma questo lo vediamo anche in altri casi di sacerdoti condannati che hanno comunque continuato a svolgere i loro incarichi a livello ecclesiastico solo dico ai colleghi stranieri guardate che vi stiamo regalando il privilegio di raccontarvi cioè a voi il privilegio di poter raccontare un paese in cui un processo per violenza su minori si svolge a porte chiuse su richiesta dell'imputato e in cui la pena accessoria di non dover più avere a che fare con minori vale solo per le strutture pubbliche dello Stato italiano ma dentro la Chiesa può avvenire tutto come avete appena sentito stavo dicendo prima in realtà inizialmente la richiesta della celebrazione a porte chiuse venne fatta dalla procura come avviene in tutti le ipotesi di reati che hanno ad oggetto la violenza sessuale e noi ci siamo associati a questa richiesta nell'intenzione di proteggere Antonio perché io voglio precisare che già subito dopo la presentazione della querela cioè quando ancora nulla si sapeva le immagini le foto di Antonio cominciavano a girare per la nostra città quindi a quel punto insomma l'esigenza di proteggerlo era prevalente abbiamo poi chiesto che venisse celebrato il processo a porta aperte appena abbiamo cominciato a respirare questo clima ambientale profondamente inquinato e che metteva a rischio non solo Antonio ma anche chi stava lavorando al suo fianco quindi Pier Elisa in primo luogo e devo dire poi anche anche io perché prima si chiedeva noi come abbiamo recepito la dichiarazione di Papa Francesco alla vigilia della requisitoria io vi dico questo noi l'abbiamo recepita molto male noi abbiamo compreso non che ce ne fosse bisogno ma di essere entrati in una cosa che era molto più grande di noi perché un intervento del sommo pontefice rispetto ad una vicenda che avveniva in una piccola città del centro della Sicilia e che aveva come dire visto il peso politico e morale di Papa Francesco aveva tutte le sembianze di una dichiarazione che avesse la necessità di condizionare l'esito di un processo le dico questo noi abbiamo accolto anche piangendo questa 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 questo intervento di Papa Francesco perché siamo stati molto spaventati e preoccupati ripeto abbiamo avuto finalmente chiaro che noi eravamo ci eravamo infilati in una cosa più grande di noi grazie sono Nicole Winfield dell'Associate Press forse avete in quei momenti già risposto alla domanda ma io avendo visto per vent'anni questi questi casi questo circolo dei casi che escono e poi le porte aprono e le denunce vengono è successo in molti paesi iniziando con Irlanda eccetera e mi ha sempre domandato perché in Italia non non si fa perché non è che in Italia sono tutti i santi ovviamente succede qua come in tutti gli altri paesi quindi mi domando perché e ho delle mie idee del perché però ho sentito anche la reticenza spesso della stampa e la paura perché ovviamente la paura sembra di essere fondata però mi domando se adesso voi anche che seguite Federica che l'ha seguito per tanto tempo siete vedendo che le porte stanno aprendo e forse anche c'è più desiderio se qualcosa sta cambiando il fatto che c'è un un podcast adesso Jacopo in quei giorni questi giorni ha fatto anche delle cose che attraiano l'attenzione pubblica della stampa e dei italiani diciamo qualsiasi che non viene regalato solo alla stampa internazionale eccetera quindi più una questione di contesto e di del fenomeno e come dove si trova adesso l'Italia in tutto questa storia è una domanda molto interessante allora io registro che da quando abbiamo da quando ho cominciato ad occuparmi di questa vicenda quindi dall'estate del 2020 qualcosa è cambiato diciamo qua ho due colleghi che insomma sia Federico Tulli che Ludovica e Eugenio abbiamo cominciato intanto a scambiarci le informazioni e poi abbiamo cominciato a fare rete ancora c'è una certa reticenza io dico semplicemente che quando do la prima notizia cioè che Antonio che c'era questa indagine non abbiamo neanche 18 gennaio del 2021 non sappiamo neanche chi è il prete insomma la gente non sapeva chi era il prete solo perché io ho scritto io lavoro per Anza ho scritto la parola Papa Francesco la notizia è stata bloccata e abbiamo dovuto utilizzare perché appena evidentemente all'agenzia quando compare la parola Papa evidentemente c'è quel campanellino d'allarme che allerta avevamo solo scritto avevamo detto semplicemente abbiamo scritto una lettera a Papa Francesco nient'altro però noto che è come se ormai il coperchio il vaso di Pandora insomma è aperto e quindi anche i giornali italiani non potranno più fare a meno di occuparsi di questi casi perché poi le vittime trovano altre strade e trovano le strade delle trasmissioni trovano le strade dei social e quindi bene o male poi queste queste storie vengono più male che bene vengono fuori male perché su Facebook sulle sulle varie piattaforme vengono senza un professionista che le racconta vengono fuori male quindi io noto una certa apertura rispetto a queste non so se è un'idea mia io integro solo con una cosa avendoci investito molto quando facevo il direttore eccetera ho visto che in realtà siamo diciamo su un crinale scivoloso perché da un lato è vero quello che dice Piero Elisa cioè per la prima volta di queste cose si parla in Italia cioè non c'è si è rotto quel primo muro di omertà dall'altro c'è il pericoloso rischio che diventino come nelle storie di immigrazione o dei morti nel Mediterraneo cioè una cosa che lo sai che è terribile una tragedia costante ma tutto sommato non ci si può fare niente e ci si è un po' a suoi fatti c'è questo rischio che è la ragione per cui noi abbiamo sempre scelto prima con domani poi col podcast di raccontare queste storie non con la chiave emotiva o dell'empatia che sarebbe quella più facile ma come dire se volete dando su quell'aspetto lì il minimo indispensabile nel podcast non entriamo troppo nei dettagli delle cose che ha dovuto subire Antonio delle cose terribili che ha passato delle cicatrici che hanno lasciato che sarebbe un po' la chiave se volete più facile che fa scattare la connessione emotiva col pubblico noi abbiamo sempre voluto raccontare queste storie come storie di potere come storie di potere di persone che hanno la responsabilità di agire e hanno una responsabilità istituzionale nel senso un'altra delle cose che emerge dal podcast è che i seminari sono posti in cui questi comportamenti sono tollerati se non addirittura incoraggiati non sappiamo se è vero quello che dice Rugolo ad Antonio che è stato fortunato Antonio ad avere queste esperienze prima di valutare un ingresso in seminario perché così arriva preparato è una specie di tirocinio il problema è che magari quello che dice Rugolo non è condiviso da tutti ma tante persone che parlano nel podcast sembrano aver introiettato quel messaggio allora questa secondo me è la cosa che non è ancora cambiata in Italia cioè il fatto che di queste cose qua si chieda conto a Rugolo e basta cioè in un paese normale c'è un vescovo che ha coperto un prete abusatore domani chiunque il primo che incontra Monsignor Zuppi il cardinale sua eminenza Zuppi dovrebbe chiedergli conto di questo ma il suo collega cosa pensa e non succede in Italia questo perché non si è ancora passata questa idea che questa è una storia di potere quando Federica ci ha provato ve lo può dire la guardavano come se fosse un po' una marziana io volevo solo aggiungere una cosa che in questo paese è singolare anche per un altro fatto cioè che fino ad oggi c'è stata solo un'associazione di sopravvissuti che è la rete l'abuso che ha sostenuto anche Antonio e senza il lavoro che ha fatto questa rete questa associazione fino ad oggi non avremmo mai saputo anche i casi di vittime e i casi di abuso questo bisogna ricordarlo perché è un unicum in Italia in altri paesi in Francia abbiamo più l'associazione abbiamo un movimento dal basso che è molto forte in Italia c'è stata sempre e soltanto solo la rete abuso e noi abbiamo potuto raccontare molti casi grazie al lavoro fatto da Francesco Zanardi a proposito del quale lui ha trovato anche un video che noi usiamo nel podcast in cui Rucolo mentre era in esilio diciamo a Ferrara a stare a distanza di sicurezza interveniva a TV 2000 la televisione dei Vescovi e veniva additato come un modello di virtù perché parlava di mascherine eccetera e lui stava a Ferrara e diceva che non vedeva loro ritornare a Enna dai suoi ragazzini e questo lo diceva dalla TV dei Vescovi questa sentenza è importante anche perché riconosce il risarcimento del danno a rete l'abuso e alle altre associazioni che si sono costituite in giudizio sono due essenzialmente perché riconosce quindi la natura di rete l'abuso come ente esponenziale di tutela delle vittime degli abusi del clero e questo è un passaggio per noi fondamentale perché riconosce il lavoro fatto da questa associazione anche in un contesto che non è proprio quello siciliano però noi siamo molto contenti di questo e poi volevo aggiungere solo una cosa se è vero voglio essere un po' ottimista in questo dopo la denuncia di Antonio noi abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni anche in altri diocesi proprio Antonio è stato depositario di tutta una serie di come dire di segnalazioni che poi sono state come dire traghettate all'autorità giudiziaria e anche in altri diocesi e devo dire che anche proprio grazie al lavoro svolto dai mezzi di informazione noi dico magari non direttamente gli uffici di polizia ma anche io Piero Elisa insomma chi ha lavorato in questo è stato come dire depositario di informazioni che per noi sono state utilissime poi per ricostruire anche alcuni altri passaggi che ci sono stati utili per portare avanti anche altri casi che insomma sono in questo momento già l'attenzione dell'autorità giudiziaria quindi io dico che insomma queste storie quella di Antonio ma anche quelle di altri sono importanti perché stanno facendo un po' da apripista cioè il lavoro è lento non è insomma penso che i cambiamenti non si ottengano da un giorno all'altro ma credo che dopo questa storia il vento sia un po' cambiato stia cambiando buonasera Olivier Bonnel sono giornalista per Radio France Internazionale due anni fa avevo fatto un servizio abbastanza lungo di una mezz'oretta sugli abusi sessuali in Italia perché come sapete prima in Francia c'era questo rapporto della SIAZ la commissione indipendente sugli abusi che non esiste in Italia e quello che mi stupiva è che diciamo l'intersezione tra la chiesa la politica e poi la magistratura la polizia come ha parlato dei carabinieri questo sistema che è molto forte che sembra ancora sempre molto forte in Italia e volevo farvi una domanda se avete fiducia che a livello politico ci sia un cambiamento culturale faccio diciamo un parallelo con i femicidi di cui abbiamo tanto parlato queste ultime settimane in Italia sembra che ci sia qualcosa che si sta un po' diciamo risvegliando sui casi voi avete fiducia che a livello politico la parola delle vittime sia più forte sia portata da alcuni esponenti eccetera grazie a livello a livello politico è una domanda un po' a me viene un po' difficile rispondere a questa domanda perché per quella che è la mia esperienza personale io dalla mia storia al di là di tutto quello che mi è accaduto ho sempre cercato poi di andare avanti attraverso quelle che poi erano i miei obiettivi che erano altri nella vita perché altrimenti come avrebbe voluto un avvocato in aula che mi ha tenuto 45 minuti di interrogatorio di escussione tutta concentrata sulle attività che io svolgevo il nuoto il fatto che mi fossi laureato il fatto che svolgesse attività culturali queste erano viste come in realtà una prova che non ci fosse stato alcun danno quindi forse si suggeriva alla vittima di avere un atteggiamento di essere forse di adottare un cliché o forse mi suggerivano altre soluzioni da dover avere quando appunto non avevo ancora raggiunto la maggiore età col seno di poi chiaramente ho sempre portato avanti le mie attività e prima della denuncia anche all'autorità giudiziaria io siccome sono sempre stato profondamente legato alla mia città avevo anche fatto un'esperienza nel corso delle amministrative della mia città mi ero candidato a sostegno dell'attuale sindaco quindi volevo portare avanti un po' quelle che erano le mie attività prevalentemente culturali nella mia città cosa che poi comunque ho fatto al di là della mancata elezione ma anche in quella circostanza ho subito delle pressioni che venivano direttamente dall'ambito ecclesiastico perché il sacerdote Rugolo era fortemente legato ad un ragazzo dell'associazione giovanile che aveva lui creato che insieme a lui esercitavano nei miei riguardi una forte attività di controllo e devo dire che anche quando c'è stato purtroppo l'inizio del processo ho registrato da parte dell'amministrazione comunale della mia città un'assenza nel processo il comune non si è costituito parte civile mai una parola è venuta da parte delle istituzioni anzi mi permetto di dirlo subito dopo la sentenza sono anche stato accusato indirettamente anzi direttamente del fatto che la qui presente Federica Turn avesse pubblicato su facebook una mia foto che mi ritraeva davanti alla chiesa madre della città perché è stata registrata da parte di alcuni membri evidentemente vicini alle istituzioni come inopportuna non capisco quale pericolo quale reato avesse chiaramente provocato una reazione del genere quindi io non so se le istituzioni sono ancora pronte ad affrontare tematiche di questo genere soprattutto in realtà territoriali come quella di mia appartenenza dove le istituzioni sono profondamente legate alla presenza radicata nel territorio della chiesa dicevamo prima che ad esempio nella mia città ci si appresta a vivere la settimana santa è una delle celebrazioni religiose più importanti al mondo e nella nostra città è fortemente sentita e ad oggi comunque è chiaro che magari una sentenza di questo genere risulta ancora scomoda quindi io il sostegno da questo punto di vista ho difficoltà a pensare di poterlo sentire non io in prima persona ma in generale le vittime che si trovano ad abitare magari in comunità come queste c'è di fatto forse un profondo imbarazzo e una profonda difficoltà io dico sempre come se le violenze fossero categorizzate in violenze di serie A e violenze di serie B violenze che permettono evidentemente di poter fare passerelle ed evidentemente anche di poterle utilizzare quasi come slogan perché evidentemente è più facile per loro ottenere consensi e violenze come quelle all'interno della chiesa per le quali si ha difficoltà a parlarne con questo chiaramente ci tengo dato che ci sono anche tante persone collegate a non generalizzare i comportamenti perché poi ho avuto in realtà altre persone che mi sono state vicine anche all'interno delle istituzioni e proprio per questo ci tengo a precisarlo hanno subito una condizione di isolamento quindi alla sua domanda credo di poter rispondere così devo dire del resto che mi sembra evidente a tutti che anche a livello non mi risulta che in Parlamento queste tematiche vengano attenzionate non mi risulta che ci sia una presa di posizione da parte di esponenti politici che si edono chiaramente proprio qui a Rome che rappresentano i vari territori si preferisce magari sostenere queste cause in maniera assolutamente privata e magari non portare avanti delle battaglie pubbliche io ho avuto modo anche di confrontarmi con due onorevoli del territorio e la città che mi hanno mostrato sostegno e ad una di loro ho proprio chiesto la possibilità di portare avanti questa battaglia ma se mi permettete faccio anche un'ulteriore un'ulteriore precisazione io a causa di questa denuncia subisco questo subì qualche anno fa anzi l'anno scorso un'aggressione verbale all'interno di un ristorante mentre mi trovavo tranquillamente a cenare con degli amici proprio perché qualche giorno dopo doveva essere sentito questo ragazzo appartenente all'associazione 360 possiamo dirlo si chiama Marco Greco che ha sostenuto sempre in maniera forte Rugolo venivo proprio accusato pubblicamente in merito alla denuncia che avevo fatto perché questa cosa stava creando un certo imbarazzo tra le file del partito democratico io ho scritto anche all'onorevole Schlein una lettera dove denunciavo questi fatti eppure nonostante tutto anche da lì non ho mai avuto una risposta non che io pretendessi una risposta pubblica ma che ci fosse una presa di posizione anche a tutela di quelle che sono queste denunce me la sarei un po' attesa anche perché poi all'interno delle aule di tribunale io per quasi 22 udienze sono stato sempre accusato per quello che potrebbe essere il mio orientamento sessuale quindi come se eventualmente essere omosessuale agevolasse le violenze e desse di conseguenza adito ai sacerdoti che quindi vorrei comprendere quale fosse quale sia il loro orientamento sessuale come mai non si condanna quello dei sacerdoti fosse un viatico verso la violenza quindi la domanda è un po' complessa ma credo che in sintesi non abbiamo grandi risposte ad ora ma mi auguro che qualcuno si svegli prima o poi io direi salve sono Dario Menor del giornale El Correo della Spagna vorrei sapere innanzitutto se c'è stato qualche provvedimento verso il Béscopo da parte della giustizia civile o della giustizia canonica e poi se dopo la sentenza della giustizia civile avete riportato il processo verso il castello della dottrina della fede da quanto capito prima era stato archiviato ma non so se dopo avete fatto qualcosa se non lo avete fatto mi permetto di dire che a Bilbao in Spagna è stato un caso un po' simile archiviato prima dopo la sentenza della giustizia civile è stato riaperto e poi si sono stati di provvedimento verso il abusatore grazie allora buongiorno io mi chiamo Andrea Freide sono lavoro per la radio televisione si sente? si ok lavoro per la radio televisione olandese e saranno 22 anni che seguo i casi di abuso sessuale in Italia e concordo con Antonio che probabilmente dalla politica non ci si può aspettare niente nella mia esperienza nei paesi le grandi inchieste soprattutto quelle indipendenti vengono installate instaurite quando o la politica si mette in moto e qui temo che non ci sarà molta speranza oppure quando c'è un'opinione pubblica veramente feroce che esige una cosa del genere allora io mi chiedo a voi colleghi più che altro pensate che nelle nuove generazioni forse facendo un'opera non so come tra i social non lo so si possa mobilizzare un'opinione pubblica in grado di scoperchiare quello che sarà l'abuso più enorme di tutta la storia grazie sono Art Hering con nazionale di Andrea del reformatore Sdachblatt dell'Olanda una domanda Federica più di vent'anni fa ho parlato una volta a Torre Pellice con il pastore Turn parente suppongo quindi da cui deduco che tu non vieni non hai un background cattolico e la mia domanda è questo ti è stato d'aiuto o è stato un impedimento o non c'entra proprio nulla grazie buonasera grazie Federico Tulli freelance no la domanda è sulle date volevo cercare di capire una cosa perché Antonio prima diceva che a fine 2018 è presentato la denuncia in nel 2019 è partita l'indagine previa di cui tu poi non hai più saputo nulla ora io se non sbaglio a fine anno poi Bergoglio ha eliminato il segreto pontificio su queste cose ti hanno mai giustificato in qualche modo questa diciamo questa mancanza no come dicevo io non ho mai avuto risposte in merito nonostante i diversi tentativi che l'avvocato l'allora avvocato Federico Marti faceva appunto di richieste alla diocesi io non ho mai ricevuto notizia circa la chiusura dell'investigazione previa credo fosse la vostra luksmunti anche la normativa che regolava questa trasparenza nell'ambito del procedimento canonico e se non erro lì il problema fu a quanto pare la retroattività eventualmente dell'applicazione della norma tant'è che poi solo attraverso gli atti che ho potuto consultare dopo la mia denuncia alla polizia di stato dall'apposita congregazione veniva informato il vescovo che io non avevo diritto in ogni caso a vedere questi atti ma che spettava eventualmente veniva demandato ulteriormente al vescovo di valutare se farmeli pervenire o no io non li ho mai letti sino a quando poi non ho fatto la denuncia all'autorità giudiziaria quindi su questo sono sempre stato lasciato all'oscuro di quali potessero essere le decisioni che erano state prese la domanda che faceva il vostro collega spagnolo sì allora noi abbiamo chiaramente come aveva detto Antonio avuto questa prima fase in cui il procedimento era stato archiviato perché per ragioni esclusivamente tecniche perché si trattava di fatti commessi quando Rugolo era un seminarista anche se poi la condanna che viene fatta viene fatta per fatti commessi quando lui era già sacerdote è nostra intenzione sì proseguire l'attività anche nei confronti dell'autorità ecclesiastica anche in considerazione del fatto che i reati commessi dai sacerdoti si prescrivono dopo 20 anni dal compimento della maggiorità della vittima quindi da questo punto di vista diciamo noi abbiamo un lasso di tempo molto molto vasto e oggi insomma anche alla luce della sentenza di condanna del materiale che abbiamo raccolto abbiamo intenzione di informare le autorità ecclesiastiche che devo dire anche una cosa da questo punto di vista c'era stato poi un interesse da parte della congregazione e della tutrina per la fede che dopo questa prima segnalazione aveva scritto al vescovo Gisana di vigilare di monitorare il caso cosa che poi non è stata non è stata fatta tant'è vero che quando noi leggiamo gli atti che determinarono il trasferimento di Rugolo a Ferrara non viene segnalata alcuna ragione di particolare attenzione per le autorità ecclesiastiche del luogo almeno sulla carta quindi insomma sicuramente noi non ci fermeremo qui e abbiamo intenzione di portare avanti questa cosa anche davanti all'autorità ecclesiastica e la speranza di essere ascoltati in quella sede allora sì beh Giorgio Tuno è cugino di mio padre quindi sì è cugino è pastore Giorgio Tuno è storico allora se è stato d'aiuto non saprei non ho la controprova posso dirti che io il mio approccio è stato laico e non ho avuto nessun tipo di coinvolgimento né positivo né negativo io ho trattato sempre questa questione come una questione di diritti umani quindi il fatto che fosse la chiesa cattolica in questo caso da abusare per me è uguale non è una non lo so un altro caso di una ONG o non so di qualsiasi altro caso in cui abbiamo qualcuno che abusa e delle persone che sono abusate quindi direi distacco non ho avuto il coinvolgimento che ho visto in tanti anche amici amiche cattoliche che purtroppo stanno vivendo un travaglio anche per questa questione però non toglie che anche i cattolici possono viverlo con lo stesso distacco lo stesso approccio laico no assolutamente a volte mi hanno detto perché sei protestante però adesso tanto sta venendo fuori anche la questione della chiesa protestante quindi avremo modo di occuparci anche di loro alla collega olandese ok io intanto apprendo e mi sento meglio oggi sapendo che sono dei colleghi che da vent'anni si occupano di questo perché invece il fatto da noi il fatto di occuparsi di questi casi è come dire crea imbarazzo quello che vivo io nella mia città ma insomma un po' ormai ho girato il fatto che mi sto occupando di questo caso crea imbarazzo agli altri come se ci fosse una retrospettiva io faccio solamente il mio lavoro faccio questo lavoro e lo faccio poi sicuramente ancora c'è tanto da fare anche fra i ragazzi quando Antonio ha presentato la denuncia quel famoso quando io do la notizia del 18 gennaio del 2021 che c'è questa inchiesta su un prete non si sapeva bene chi fosse ha fatto un'intervista con un collega della Repubblica e mi colpirono tanto le parole allora veramente non avevamo veramente capito che cosa stavamo facendo mi colpirono molto le parole del collega ma ci vuole coraggio a denunciare io che sono un cittadino che guarda le istituzioni con grande rispetto perché ci vuole coraggio invece ci vuole un coraggio enorme perché per esempio all'inizio da noi nella nostra città un gruppo di mamme ha fatto un comitato a favore di Rugolo dopo che è venuto fuori che era lui quindi è un comitato contro la procura perché certamente l'inchiesta non l'avevo fatta io hanno fatto un comitato però Rugolo hanno raccolto le firme per chiedere con te ragione di perché fosse inquisito quindi io mi auguro che ecco ho ragazzi giovani sono mamma di due ragazzi giovani segnati da questa vicenda perché queste nostre famiglie sono state coinvolte noi quattro anni che lavoriamo su questo mi auguro che insomma queste nuove generazioni riescano a vedere la violenza nella chiesa come una cosa da cui allontanarsi e denunciare perché ancora è difficile denunciare le violenze come diceva Antonio ci sono violenze di serie A e violenze di serie B nel caso di Antonio sono state fatte delle domande e consentite in aula delle domande tendenziose un po' come il caso del figlio di Grillo su com'è rivestita ad Antonio hanno chiesto qual era il suo orientamento sessuale cioè come se come dire insomma in città si è detto che c'era una storia fra questi due finita male quindi un ragazzo si mette su tutti i giornali del mondo per raccontare una storia finita male accusando il prete di averlo violato io credo che sia veramente assurdo cioè proprio contro ogni storia se non ci sono altre domande ma certo Ludovica Eugenio di Adista in realtà è una domanda fatta dal collega Dario volevo tornare un attimo su questo aspetto di come andrà a finire la confessione fatta da Monsignor Gisana in merito al suo insabbiamento pochi giorni fa il vescovo ha destituito un vescovo polacco su cui c'era un'investigazione da quattro anni perché si è dimostrato che aveva coperto alcuni casi di pedofilia credo un paio di sacerdoti e contestualmente anche la giustizia civile del paese ha condannato il vescovo cosa succederà qui su questo reato in merito alla giustizia civile sì certo io credo per tutte le cose che ci ha detto Pier Elisa Rizzo e anche Leana Parasiliti e Federica credo che la risposta sia che dipende da quello che fate voi cioè nel senso se questa vicenda riusciamo definitivamente col podcast e col vostro aiuto a portarla fuori dal recinto in cui è stata tenuta finora succedono delle cose se resta lì continueranno Leana e Pier Elisa a fare le loro battaglie noi per quello che possiamo a dargli una spalla nazionale ma finisce lì cioè l'obiettivo realistico di questo podcast è che il Papa destituisca Gisano detto come va detto cioè secondo me non si può stare in un paese in cui o in una chiesa in cui il Papa sente un vescovo che dice io ho insabbiato questa storia sono nei guai quanto te e lo lascia al suo posto questa diciamo è una risposta giornalistica e non giudiziaria però secondo me è la risposta credo legittima l'unica che ha senso cioè la ragione per cui ci siamo imbarcati in questa cosa è che qualcosa deve succedere se tutto questo viene ascoltato e non succede niente allora eh ma abbiamo capito sapete sappiamo come funziona la giustizia arriva a valle non arriva a valle tra l'altro Rugolo continua a dire messa cioè non è stato sospeso almeno fino a qualche mese fa perché ho fatto una telefonata alle agioce se non è mai stato sospeso però la risposta a giudiziare l'avvocato sì allora noi eh stiamo facendo ancora un'analisi degli atti processuali perché vogliamo valutare anche la possibilità di avviare un'azione perché ci sono delle dichiarazioni palesemente false quindi noi faremo la nostra parte è chiaro che capite bene che devono essere fatti circostanziati adeguatamente motivati e quindi ci sarà un lavoro ancora una volta molto eh minuzioso rispetto a tutto quello che è accaduto durante il processo eh ma non vi nascondo insomma che già abbiamo degli elementi su cui stiamo lavorando e quindi dico sarà nostra nostra cura portare all'attenzione della magistratura anche questi aspetti eh sperando insomma di trovare riconoscimento accoglienza eh devo dire questo poi la differenza la fanno le persone al di là dei singoli insomma delle istituzioni perché eh noi ripeto come dicevo prima siamo stati fortunati a trovare eh forse al posto giusto nel momento giusto le persone che ci hanno creduto in quello che hanno fatto e penso insomma anche mettendoci dell'oro perché noi ci siamo veramente si parlava poco fa di un sistema di potere e noi abbiamo veramente sperimentato l'arroganza di un potere questo eh lo dico perché nel momento in cui si sono querelati eh gli avvocati i giornalisti sono nel tentativo di la vittima esatto noi affronteremo eh dico e la dice lunga sul fatto insomma che il tentativo era solo quello di fermare e di zittire delle persone che non erano controllabili perché eh qua ci siamo ritrovati un gruppo di persone che non aveva mai ricevuto niente da nessuno che ha sempre fatto il loro lavoro e che era libero nel pensiero quindi eh grazie a Dio non eravamo attaccabili da nessun punto di vista e quindi insomma lo strumento è stato quello eh noi non ci fermiamo noi andiamo avanti eh ci sono tante cose che noi intendiamo portare alla conoscenza sia dell'autorità giudiziaria sia delle autorità ecclesiastiche eh ripeto con l'entusiasmo la grinta e la determinazione che abbiamo avuto fino fino ad adesso bene eh solo due cose prima di salutarvi oltre che ringraziarvi eh qui parlo con i colleghi della stampa straniera e chi come ci ha detto Andrea si occupa da molti anni di di queste questioni degli abusi sessuali nella chiesa ovviamente tutti ci chiediamo e voi vi chiedete da anni perché l'Italia è diversa perché lo scandalo negli Stati Uniti in Francia in Germania dappertutto solo l'Italia fa eccezione la risposta secondo me eh dico io dell'argomento so poco quando ho una curiosità chiedo a Federica ma eh la risposta è abbastanza intuitiva l'Italia è l'unico paese al mondo l'unico paese cattolico al mondo in cui c'è il Vaticano per cui mentre le diocesi americane tedesche alla fine quando monta lo scandalo sono in un certo senso indifese perché il Vaticano non va non partono le guardie svizzere per andare a difenderli dall'opinione pubblica di quei paesi in Italia sì e quindi questa è la ragione per cui io non sapendo niente dell'argomento però come nelle discussioni che abbiamo avuto con Stefano con Federica in questi mesi ho sempre detto dobbiamo raccontare il Vaticano perché è lì il punto perché è lì la differenza con gli altri paesi e la seconda cosa appunto che volevo dire che già accennava Stefano riguarda il il ruolo della stampa estera l'Italia oltre ad avere il privilegio nell'esclusiva di avere il Vaticano e il Papa in casa ha un altro problema che è un rapporto con i media dell'opinione pubblica un po' particolare la ragione per cui noi abbiamo voluto fare questa presentazione privilegiando i colleghi dei giornali stranieri che è una scelta che è una scelta diciamo commercialmente poco furba perché noi non cerchiamo di non cerchiamo un mercato nei vostri paesi in cui forse pochi sanno l'italiano e soprattutto sanno dove è e sono interessati a questa storia però a noi quello che interessa proprio perché qui si gioca una partita che è quella di cui anche voi avete parlato se i vostri giornali parlano della storia di Antonio Messina in Italia qualcuno comincerà a pensare che forse è vero e quindi questo è quello che diciamo è in qualche modo la vostra responsabilità quello che potete quello che potete fare voi per l'Italia in questo momento su questo argomento detto questo io ringrazio naturalmente Antonio Messina Eleanna Parassiliti e Piero Elisa Rizzo che sono venuti qui apposta da Messina e sono in testa il Ponte sono venuti qui apposta da Enna per parlare con voi e ringrazio voi di essere stati qui con noi con tanta pazienza e anche grazie alla Federazione Nazionale della Stampa che ci ha ospitato posso dire un'ultima cosa vorrei ringraziare voi prima di tutto Federica Tarn e Stefano Feltri e te Giorgio perché la vostra presenza a livello nazionale mi fa ringrazio tutti voi che da oggi comincerete a occuparvi spero di questo caso perché questa cosa mi fa sentire meno sola e quindi mi fa sentire più protetta quindi volevo dirvi grazie per il lavoro eccellente dedicato che avete fatto grazie da tutti noi grazie a tutti